Controlli a tappeto nel fine settimana per garantire l'osservanza delle misure anticontagio. La prefettura di Pesero Urbino fa sapere che le forze dell'ordine hanno eseguito oltre 1300 controlli, di cui più di 800 sulle persone 490 all'interno di attività ed esercizi commerciali. 16 sono stati verbali elevati. Dall'inizio della pandemia sono state sanzionate 2062 persone, 4 le denunce all'autorità giudiziaria e 12 gli esercizi chiusi. In questi ultimi giorni i fanesi sono stati abbastanza disciplinati, ma con alcune eccezioni. Lo ha dichiarato l'assessore alla polizia locale Sara Cucchiarini, che questa mattina ha parlato di controlli e provvedimenti adottati. Sabato, ha precisato, si sono verificati numerosi assembramenti di giovani e adulti che hanno deciso di organizzare l'ultimo aperitivo in compagnia e pranzi nei ristoranti, in vista della chiusura prevista da ieri col passaggio delle Marche a zona arancione. Domenica, invece, sono scattate due sanzioni a ragazzi senza la mascherina e al titolare di un ristorante che, violando le ultime restrizioni imposte dal governo, ha alzato la Sara Cinesca e ha accolto i clienti, somministrando cibi e bevande. I servizi, ha spiegato invece la comandante Annarita Montagna, sono stati incentrati fino alla mezzanotte, sia nel centro storico di Fano che nei locali della periferia. Proprio ieri sera mi sono fatta mandare dal comando una foto della situazione del transito da telecamere e alle ore 23.15 in tutte le telecamere non c'era un veicolo in movimento. Il traffico è veramente pochissimo e quindi possiamo anche noi confermare che quel senso di responsabilità di cui è stato parlato dall'assessore, dal presidente Acquaroli, comunque l'abbiamo riscontrato. E l'assessore, oltre a sottolineare l'importanza delle telecamere installate nei vari punti della città, ha spiegato le azioni messe in campo per risolvere il problema dell'organico del comando locale. Abbiamo comunque allungato il contratto agli stagionali, stabilizzeremo nelle prossime settimane tre nuove figure che entreranno in organico in modo a tempo indeterminato ed abbiamo fatto negli ultimi settimani una graduatoria condivisa con il comune, con il comando di Ancona per la messa in organico di tre nuovi ufficiali che dovranno arrivare nelle prossime settimane. Per cui questa è una risposta, nonostante le difficoltà anche di darla, che sarà significativa e avrà una vera e propria boccata d'ossigeno. La Cucchiarini ha poi affermato di non condividere l'ordinanza firmata da Ricci sul senso unico istituito nel centro storico di Pesaro, ma ha ribadito l'importanza della prevenzione e della sinergia tra le forze di polizia. Invece, sui fatti di Sant'Orso accaduti la sera di Halloween, le indagini sono ancora in corso per individuare tutti i responsabili degli atti vandalici. I controlli nel territorio proseguiranno anche nelle prossime settimane e i trasgressori andranno incontro a molte sospensioni della licenza della propria attività. Le sanzioni sono le solite quelle previste già da marzo, sempre quella è la normativa di riferimento, il nostro DL19 è poi convertito in legge, 400 euro che poi diventano 280 se vengono pagati nei primi 5 giorni dalla notifica del verbale. Per le attività c'è in più anche la sanzione accessoria della chiusura, che va da 5 a 30 giorni. Ed è quella che poi abbiamo applicato anche al ristorante che ieri era aperto, quello di cui ha accennato l'assessora, perché effettivamente ha continuato la sua attività rimanendo aperto e servendo a clienti.